Proseguono i lavori di riqualificazione nel cantiere del waterfront di San Girolamo. La spiaggia è ormai quasi del tutto fruibile, a testimoniarlo i numerosi cittadini che la affollano quotidianamente. I lavori sono quasi del tutto terminati con l'apertura della parte a sud del cantiere, che consentirà un accesso più egevole alla spiaggia di sabbia, che sarà riqualificata a breve. Entro il mese di ottobre poi l'intervento di riqualificazione sarà finalmente completato, così come dichiarato dal sindaco di Bari Antonio De Caro dopo l'ultimo sopralluogo sul cantiere. Si apre una buona parte della parte a sud in modo da dare un accesso libero alla spiaggia di sabbia, che sarà riqualificata però già perfettamente attiva e a quella di Ciottoli che sta un po' più avanti e poi completeremo i lavori solo dalla pista ciclabile con la vernice e un po' di asfalto. Resterà da fare soltanto la piastra centrale che terminerà ad ottobre e saranno ultimati i lavori. La parte a nord è pienamente utilizzata dai cittadini sia la mattina per andare al mare, sia il pomeriggio e la sera per poter stare insieme e cercare di fare un po' comunità. Ecco questi spazi aperti al pubblico, pedonali, dove possono passare biciclette, dove possono giocare i bambini in tutta tranquillità, dove abbiamo tolto le macchine, servono proprio a fare questo, a fare comunità. A ottobre finisce tutto, tra qualche giorno finiscono i lavori sul waterfront, resterà da completare solo la piastra dove ci sono i locali commerciali, la parte superiore che servirà per il sole, i servizi igienici, quelli termineranno in ottobre, il resto termina in questa settimana.